bravo jo bravo jo bravo jo bravo jo Io se c'è una cosa che non sopporto sono lei di pensione, allora se devo sentirmi dire quello che non so, manco rispondo, e andate tutti a fanculo, andate tutti a fanculo, andate tutti a fanculo, yeah, 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 però adesso facciamo un gioco di schiena, no, io tengo uno, due, tre, no, poi tutti in coro dovete fare il porco Dio, però, voi gli occhiali, gli occhiali si rompono, ce l'ho fatto, no, 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 Dovano! varie paie d'occhiali e prima mi andava di vestirmi in una certa maniera, adesso sono passati tanti anni e mi va di vestirmi con un paio di jeans e una maniera e basta, perché io non mi ritengo nessuno, mi ritengo solo servitore del mio pubblico, grazie! Grazie a voi, grazie a voi! Allora cominciamo a fare questo gioco, però io voglio una cosa, io proverò la prima volta, la seconda volta, la terza volta, la quarta volta, la quinta volta, la sesta volta. Finché non sento un porco Dio proprio al massimo del volume, facciamo prima delle prove tutti insieme, no? Per cui, siccome siamo tutti incazzati, no? Penso questo nuovo governo tecnico che sta aumentando tutto, ma abbiamo un grosso debito pubblico, però facendo questo togli il lavoro a tanta gente e anche la neve ha tolto e non voglio fare il serentano, assolutamente, eh! Gierarchia infernali è un pezzo che non posso eseguire, potrei fare una parte del testo, perché mi succederebbe tutto un gruppo per eseguire Gierarchia infernali, e potrei farla della versione acustica che non viene bene, della versione, diciamo, con la chi dà la punta. Però posso dire che adesso al mio uno, due, e tre facciamo un bel po' brutto Dio. Se viene bene, può venire sempre meglio! Brutto stronzo, pieno di vermi! Ma lo sapete che il mondo, visto dall'alto, dall'alto, sembra una colla tra serpe e serpe? Eh? L'avete mai visto? Dove cazzo mai messo le sigarette? Percusionista! Del cazzo! Del cazzo! Che cazzo! Del cazzo! mi hanno fatto bene a scappare stasera ho sceso una sigaretta lì allora io comincio quando saremmo arrivati al culmine io dirò basta va bene allora tutti insieme uno due tre di nuovo uno due tre ancora non è abbastanza le pareti del locale devono tramare le vostre voci e vi assicuro che nessuno uscirà vivo da questa sala se no se non farete tremare le vostre voci nessuno uscirà vivo da questa sala uno allora a questo punto io partirei con una io non c'è stata più un cazzo di quello che dico guarda ognuno parla per sé sempre la torre di babele ognuno parla una lingua diversa ognuno parla una lingua diversa siamo non è l'esperanto siamo diventati crocio crocio sarei ben contento di essere un crocio ma purtroppo non lo sono avrete capito a me mi piace la sorca 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 la patonza la figa la fregna viva la patonza viva la patonza viva la patonza avete capito brutti croci brutti croci di merda schifosi vermi latranti latranti arriveranno gli avvoltoi a mangiare le vostre carne ormai incancrenate e il sangue vi salirà dallo stomaco fino al cuore fino a raggiungere il centro del vostro motore oh ma aspettavo un applauso bravo 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 bravo